C'è la Navarri e la Rizzi che palleggiano, non possiamo non mostrarmi in diretta a questo momento, a lezione da Samarzic, ecco qua, la da Samarzic che insegna alle campionesse della scherma a fare i palleggi. Allora avete imparato? Sì certo, 4 è il mio record, sono felicissima per oggi e mi sembra abbastanza sufficiente che ne pensi. 4 è tanto tu? No io scarsissima. Vabbè diciamo che fate altro nella vita, com'è essere qui oggi ragazze? Beh tu sei tifosissima dell'Udinese anche tu, quindi essere parte di questa grande festa dei tifosi. Ma bellissimo, soprattutto la loro curva che ci ha dedicato un paio di cori, è stato veramente emozionante e abbiamo rubato questi due minuti all'Udinese però abbiamo condiviso anche la nostra medaglia con tutti i tifosi che sono qua a Friulani e non solo a tifare per loro. Quel grazie ragazze cantato da una curva non capita, non capita spesso, è stato emozionante. Eh sì, è emozionantissimo anche con Marcus, la palleggiante e anche perché io sono di Udine quindi per me è stato un orgoglio, un'emozione doppia, veramente bellissima.